La notizia in casa Catania era nell'aria da giorni e ieri sera è arrivata l'ufficialità. Giovanni Marchese torna ai piedi dell'Etna sottoscrivendo un contratto fino al 2020. Il terzino 32enne dall'ottobre scorso si allenava con la squadra di Rigoli dopo aver rescisso con il Genoa. Una scelta affettiva e di vita la sua nonostante le possibilità di andare in B o in altre compagini di vertice di Lega Pro. Indosserà la maglia rossa-azzurra per la terza volta dopo la stagione 2005-2006, quella della promozione in A ed il quadriennio 2009-2013 nella massima serie. Sulle fronte attaccante nelle ultime ore circola il nome di Litteri, Catanese in forza al Cittadella, anche se sembra difficile che il giocatore possa lasciare la Serie B. In uscita Bastrini destinato alla Cremonese Silva che potrebbe passare alla Vibonese o al Catanzaro. Il Trapani intanto ha ceduto Pektovic al Bologna, al Catania come noto andrà il 25% pari a circa 300.000 euro della cifra incassata dai Granata.